La legenda sulla reliquia di Santa Febbronia Potete indicarmi un posto dove potrei trascorrere la notte e riposare. Sono diretto a Miritello. Chi sei? Sono Santa Febbronia. E cosa chiedi a me? La patrona di una città. Voi sapete benissimo che su questo genere di vicende mi reputo uno scettico. Un principe incredulo. E voi? E voi chi siete? Queste doti, a me tanto care, le dono a lei. Il prodigio. Viva Santa Febbronia! 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 Grazie a tutti